Ciao a tutti, sono Steve, WP Organics Italia. Oggi voglio spiegare qualcosa di fenomenale per quanto riguarda la bolla del pesco. Tutti quanti sappiamo un po' che cosa accade sul pesco quando vediamo questa foglia che ha questo bollore, questo rossore, questo colore particolare un po' marcato e vediamo che il nostro pesco non produce al meglio, anzi può andare addirittura a morire, per cui è molto importante capire come aiutare, prevenire o comunque agire quando vediamo una cosa del genere. Ecco perché abbiamo una soluzione che fa al caso tuo, perché abbiamo questo prodotto che si chiama YPH Buffer insieme all'altro prodotto che lavorano entrambi per fare un qualcosa di importante. Il YPH Buffer è un acidificante tampone che abbassa il pH dell'acqua ma non solo fa da penetratore sulla stomata della foglia, ma farà un'altra cosa in più parlando proprio della bolla del pesco. Come il YPH è un acido asgorbico, quindi uguale vitamina C, andrà a lavorare sul sistema immunitario della pianta, quindi del pesco in questione. Che cosa farà? Lavorerà sui suoi principi metabolici, lavorerà sul processo proprio di funzione della pianta grazie al fatto che YP Organics Formula, l'elecisteina, questo amminoacido aiuta a riprendere tutte le funzioni, quindi tutte le riserve della pianta a districarli fino alle radici. Potrete osservare quello che abbiamo visto sul nostro canale YouTube quando parliamo del pesco, di questo amico mio imprenditore che aveva questo pesco morente con questa bolla e noi siamo riusciti a evitare l'espansione della bolla e a ridurla meglio e poter ridare alla pianta a vigore. Quindi noi praticamente non andiamo a scacciare via il fungo piuttosto che andiamo a allontanare l'insetto, bensì mettiamo in funzione i metabolismo della pianta e da se stessa fa quello che madre natura dovrebbe fare. Per cui avrà tutte quelle proprietà per poter combattere questo tipo di agente esterno che non farà altro che danneggiare la nostra pianta o le nostre piante. Per cui ti invito a poter usufruire dei nostri prodotti che troverai su www.waporganics.com e anche tu combattere la bolla del pesco ed essere un testimone oculare di quello che questi prodotti fanno e ci aiutano in questo tipo di situazione. Grazie a tutti!